Musica Sono occhiali speciali, quelli che saranno in dotazione alla Polizia Municipale di Arezzo, prima volta in Italia, dal prossimo dicembre. Si chiamano Lab Glasses e sostanzialmente è un occhiale dotato di visori, di telecamere ad alta risoluzione, ideato per riconoscere e leggere automaticamente le targhe dei veicoli e conseguentemente collegarle ai documenti degli utenti per poter capire se c'è o meno un'infrazione. La gente di Polizia dovrà mirare con gli occhi la targa, questo è il funzionamento? Assolutamente sì, e questa poi l'innovazione è lo spunto di novità che si avrà poi nell'operatività, perché immaginiamo un agente di Polizia Municipale le cui mani ormai libere da dover tenere un palmare piuttosto che bollettario e quindi col solo movimento del suo sguardo riuscire a captare, a quindi leggere la targa del veicolo e automaticamente avere sul visore dei suoi Lab Glasses le informazioni essenziali per verificare se è necessario approfondire ulteriori attività su quel veicolo oppure continuare il suo monitoraggio sul territorio. In tutto tre i kit a disposizione che per adesso saranno utilizzati da altrettanti agenti nelle zone calde di Arezzo in via sperimentale. Le zone sicuramente sono le zone da attenzionare di più, sono sempre le zone di Saione, piazza Sant'Agostino, piazza Labbadia e soprattutto il controllo, inerenti le strade regionali. Un risparmio di tempo dunque, ma secondo l'amministrazione comunale anche un risparmio di denaro, perché una volta conclusa la sperimentazione, questi dispositivi permetteranno di inviare notifiche digitali con spese decisamente ridotte appunto per il Comune di Arezzo.